ciao stasera faccio l'apertura della scatola cosiddetto unboxing di un piccolo ordine che ho fatto su amazon è un coltellino svizzero che adesso andiamo a vedere esaminiamo la busta praticamente una busta in cartone sui lati è chiusa e era chiusa perché l'ho già aperta da un nastro antistrappo possiamo aprire all'interno la bolla di consegna e l'oggettino apro il sacchetto è un coltello della victorinox multifunzione il modello è hiker scatolina semplice ma carina ora vado ad aprire eccolo all'interno abbiamo un foglietto qualche istruzione come aprire come usare l'apri barattoli un'illustrazione che riguarda la parte apri capsule e spela cavi qui c'è anche fa vedere pinzetta e stuzzicadenti indica come aprire una se la lama fosse bloccata indice praticamente di aprirla e chiuderla alcune volte in acqua calda e poi asciugare bene e oliare qui fa vedere come lubrificare e la garanzia vediamo l'oggetto classico abbiamo cacciavite philips qui abbiamo il punteruolo qui vediamo il foro che può servire per cucire del cuoio o un telone o comunque un lavoro di questo genere il punteruolo è affilato quindi può scavare praticamente un buco in anche nel legno per esempio in una lamiera sottile si sente la lubrificazione qui abbiamo una lama piccola abbiamo la lama grossa col marchio Victorinox qua poi abbiamo al centro sega da legno bella anche se sottile però carina parecchia filata devo dire poi abbiamo cacciavite cacciavite all'arma larga leva capsule cioè apri bottiglie in pratica e qui su questa piccola insennatura questa ansa per spelare cavi cavi elettrici abbiamo l'apri scatole con un cacciavitino piccolo qua sulla punta e abbiamo praticamente i classici quindi lo stuzzicadenti qua e la pinzetta da questa parte ecco il classico scudetto l'anellino portachiavi questo è un regalo per mio nipote Alessandro che saluto se mi guarda ciao ciao a tutti gli amici del canale e alla prossima